Si chiude con 15.000 presenze l'edizione 2020 della Rezzo Classic Motors. Appassionati, curiosi studenti e famiglie, i migliaia infatti questo fine settimana si sono messi in coda per visitare la 22esima edizione della manifestazione di motorismo storico più attesa del centro Italia. Un'edizione quest'anno dedicata ai 110 anni dell'Alfa Romeo, protagonista la mostra tematica principale 110 anni Alfa Romeo tra sport e stile. Tra le curiosità che hanno attratto indubbiamente c'è l'Alfa Romeo 1750 Super Sport del 1929, un modello analogo alla vettura vincitrice della Mille Miglia. Abbiamo qui in esposizione un esemplare stupendo che ha fatto la storia dell'automunismo sportivo, ma l'automunismo sportivo specialmente dell'Alfa Romeo. Questa vettura è un 1750 6 cilindri Super Sport con due compressori, è una vettura particolarmente performante per quei tempi, ma è un modello analogo alla vettura che ha vinto la Mille Miglia nel 29 con Campari e Ramponi e nel 30 con Nuvolari e Guidotti. Per cui è veramente un esemplare, un modello importantissimo per la storia dell'Alfa Romeo. Nello stesso padiglione i visitatori hanno poi potuto ammirare anche le auto provenienti dal Museo della Polizia di Roma, tra cui la nuova Giulia Veloce Turbo Q4 in dotazione alla Polizia Stradale di Roma. Quattro ruote motrici che in dotazione al reparto specifico e operativo speciale della nostra stradale, i colleghi sono giunti direttamente da Roma e per dirne una questa è la macchina che serve per i servizi di scorta al Presidente della Repubblica. È il fiore all'occhiello del nostro autoparco perché è l'ultima nata dell'Alfa Romeo, un vero gioiello di stile e di prestazioni.